Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio sotto la grande croce del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, in questo camminamento che ci porta verso il santuario di Santa Maria delle Grazie e poi sul grande sagrato. Oggi qui per chiederci, a volte ci imbattiamo spesso in alcuni nomi di figli spirituali, in modo particolare in una cittadina, Prato. Molti si domandano perché Prato abbia avuto una devozione speciale per Padre Pio e perché lui fosse così vicino alla città. Allora lo ha chiesto Leonardo Bruni, in questo libro che raccoglie una serie di testimonianze, ad Antonio Lucchesi, un figlio spirituale di Padre Pio, dice anche Prato come Modena, Bologna, Roma, Padova, poi sorridendo dice ci vorrà un po' di pazienza per conoscere il perché completo, dovremmo aspettare di essere arrivati in cielo perché tutto anche questo ci sia svegliato, perché in modo particolare c'erano queste città che in un certo senso hanno convogliato anche qui a San Giovanni Rotondo tanti figli spirituali, tante persone. formulare solo delle ipotesi, dice Antonio, forse il merito di ognuna delle città può essere stato che sono arrivate da Padre Pio persone subito entrate in una particolare amicizia e soprattutto in una intimità spirituale con lui e che da queste persone poi siano scaturite moltitudini di fedeli che a loro volta parlavano, proponevano ad altri anche di seguirli. ne ho conosciute qualcuna, sacerdoti che hanno impressionato per la fede profonda, per la devozione e per Prato a voler cercare un motivo accertabile storicamente molto merito va dato ad una persona semplice, spontanea che conobbe Padre Pio molti anni fa, se ne innamorò, ne fu convertito, si organizzò unendo una necessità di lavorare al desiderio di incontrare Padre Pio il più spesso possibile. Era Giovanni, Giovanni Bardazzi che possedeva una rarissima lancia Aurelia con gli strapuntini e traghettava a San Giovanni Rotondo persone che si rivolgevano a lui per il viaggio circa due volte al mese e lui racconta che anche lui per la prima volta e tante altre volte è stato da lui accolto con affetto da Padre Pio con rassegnazione, scrive dei frati del convento Giovanni, ci faceva da guida, ci schierava come disciplinati soldatini lungo i corridoi che potevamo incontrare Padre Pio anche negli orari fuori ordinanza, scrive tra virgolette. Momento specialissimo era quello che quando Padre Pio rientrava dopo la liturgia dei Vespri e la benedizione serale salendo dalla chiesetta in convento, allora si fermava a conversare con un amici del posto e pochi ospiti Giovanni allora ci disponeva due o tre per volta nella saletta della foresteria al primo piano andandoci a raccomandare di non farci notare dei frati che passavano, porgevamo l'orecchio per sentire così l'avvicinarsi di Padre Pio, dalla voce inconfondibile, speravamo che anche quella sera entrasse nella saletta per stare con noi e a parlare prima di entrare proprio nella sua cella che era la cella numero 5 racconta Antonio Lucchesi, ma quando entrava sostenendosi al braccio di un confratello si sedeva sulla poltroncina di Vimini accanto alla porta per riposarsi una ventina di minuti che a noi sembravano veramente un'eternità un'eternità di gioia, ci rendevamo conto del dono che stavamo godendo e gustando, vedevamo Padre Pio nella sua semplicità, spesso non avevamo il coraggio anche di prendere la parola ma ci bastava solo ascoltare la simpatica parlata di Padre Pio, sempre erguto, allegro che girando gli occhi prima o poi inquadrava tutti, specialmente i nuovi arrivati, a volte domandava e tu da dove vieni? E se la risposta era da Prato, padre, si rivoltava subito verso Giovanni con una battuta spirituosa, in quei momenti Padre Pio era come un amabile parroco di campagna che conversava con i suoi fedeli.